Ecco, ma qui ad Albino com'è la situazione legata alla diffusione del coronavirus anche in relazione a alcuni dati che sono stati diffusi? Sì, ultimamente c'è un po' di confusione circa i dati dei casi di contagio coronavirus qui ad Albino. Purtroppo sono girati dei dati che non sono stati ben spiegati, ben illustrati, ben circostanziati, per cui stanno ingenerando un po' di confusione. Parlo di quei 65 casi in più registrati su Albino nelle ultime ore. Ahimè, questo dato non è stato ben spiegato e quindi non è stato ben capito ovviamente dalla gente, dalla popolazione e dalla mia comunità. Non si tratta di 65 nuovi casi in più attuali a fronte della riapertura di una settimana fa, di dieci giorni fa di tutte o di quasi tutte le attività. Non è così, i dati in mio possesso, io giornalmente ricevo i dati ufficiali da TS, mi parlano di soli 62 casi ancora positivi ad Albino, di gente che è in isolamento o che è ancora all'ospedale. Cosa sono questi 65 casi in più? Sono casi pregressi che sono frutto del risultato dell'indagine sierologica, del test sierologico che è stato fatto dieci giorni fa qua ad Albino. Quindi casi pregressi di un mese, due mesi fa, che con il test sono emersi, sono venuti fuori. Gran parte di essi poi a fronte del tampone risultano essere negativi perché, ripeto, sono casi pregressi che non riguardano il momento attuale contingente. Questo non vuol dire che dobbiamo abbassare la guardia, non vuol dire liberi tutti, ma dobbiamo ancora mantenere quelle che sono le misure di sicurezza, il distanziamento sociale, la mascherina sempre messa correttamente e evitare degli assembramenti. Però volevo un po' calmare la mia comunità, volevo spazzare il campo da inutili allarmismi spiegando meglio questo dato. Non si tratta, ripeto, di casi nuovi, ma sono casi pregressi che risultano da questi test sierologici che sono stati fatti una decina di giorni fa ad Albino. Per cui niente allarmismi, però sempre prudezza, coscienza, manteniamo le distanze, osserviamo quelle che sono le misure di sicurezza. Avete visto cittadini che abbiamo distribuito nuovamente le mascherine gratuitamente a tutta la cittadinanza, mi raccomando utilizzatele nella maniera corretta tutte le volte che uscite e incontrate dalle persone. E per quanto riguarda i servizi pubblici? Intanto li abbiamo riaperti, ma con le dovute cautele, con le dovute precauzioni che del resto sono anche previste dal decreto, dal DPCM. Per cui piattaforma ecologica aperta, ma solo su appuntamento, quindi ingressi contingentati, ma filtrati all'origine. Parchi aperti, cimiteri aperti, ma con la presenza di volontari che garantiscono il contingentamento, che controllano che gli utenti abbiano i DP, le mascherine piuttosto che i guanti. Il Comune ha aperto i propri servizi, ma anche qui solo su appuntamento, trattandosi di un luogo chiuso. Qui continuiamo a osservare delle misure molto scrupolose. Per cui una figura che col termoscanner misura la temperatura corporea a chi ha appuntamento presso i vari uffici, obbliga il lavaggio delle mani a mettere i guanti. Idem presso il mercato cittadino. Ingressi contingentati, termoscanner per misurare la temperatura corporea a tutti, guantini e mascherina. Si è ripreso, ma mantenendo chiaramente tutte queste misure di sicurezza. A mio modo di vedere i cittadini per la gran parte stanno rispettando le misure di sicurezza. Tutti circolano con le mascherine. Ci sono sempre le eccezioni, ma posso ritenermi soddisfatto del comportamento dei miei concittadini.